Bentornati amici e amiche di TV6 e ben ritrovati all'appuntamento col meteo per questo venerdì. Un'altra giornata che si prospetta instabile e perturbata su tante nostre regioni, soprattutto al nord, dove arriverà un altro flusso instabile da nord-ovest dall'Atlantico che interagirà col Mediterraneo darà luogo ad altri avvenzamenti, altre precipitazioni, altri temporali. Questo schema barico persisterà anche nei prossimi giorni, insomma avremo a che fare con tante altre perturbazioni, tutte molto ravvicinate. Per questo venerdì, quindi, una giornata instabile al nord e parte del centro Italia andrà leggermente meglio solo al sud. In Abruzzo si prospetta dunque un'altra giornata instabile, soprattutto nella seconda metà della giornata, quando mi aspetto alla formazione di altri rovesci, altri densamenti corposi nelle aree interne che daranno luogo ad acquazioni sparsi, qualche rovescio, qualche temporale. Poi questi fenomeni transiteranno anche lungo i tratti costieri, le basse quote, però comunque fenomeni abbastanza veloci. Le temperature non subiranno grandi variazioni, le massime attorno ai 19-21 gradi. Con questo concluso ci rivediamo nel prossimo appuntamento. Grazie a tutti.